buongiorno ai nostri spettatori oggi abbiamo due ospiti speciali qui in studio l'amico del popolo radio piave perché abbiamo il consigliere provinciale delegato alla difesa del suolo massimo bortoluzzi e piero antonio zanchetta che è un regionale però è distaccato alla provincia di belluno ed è il capo della difesa del suolo in provincia di belluno praticamente quindi abbiamo il vertice amministrativo bortoluzzi e poi il primo braccio operativo della difesa del suolo vi abbiamo invitato perché la provincia di belluno ha portato a termine sta realizzando in questi giorni due opere molto importanti che hanno fatto anche piuttosto impressione insomma in particolare mi riferisco alla frana di bries agordo che ha che ci ha dato quelle immagini impressionanti del masso caduto dal versante che ha evitato una casa forse la presa sull'angolo la sfiorata schiacciato in pieno la macchina parcheggiata di fianco si è fermato questo masso grosso in mezzo alla statale alla regionale della gordino e con la necessità di sfollare persone quindi con un impatto sulla popolazione anche importante e poi finita questa emergenza a lozzo si è riattivata la frana storica di revista silente per anni e adesso fatto cadere qualche sasso e un sasso ha colpito una casa al di là del torrente che sta che sta sotto la frana insomma in tutti i due casi la provincia si è mossa velocissima dobbiamo dirvi bravi perché come cittadini inutile non è per piageria ma insomma di fatto di fatto ci avete messo pochissimo a risolvere praticamente il problema di agordo e ad affrontare in modo tempestivo efficace anche questo qua di lozzo ma volevo chiedere consigliere bortoluzzi state usando con molta efficacia questo dispositivo della somma urgenza è certo la sua urgenza in questo caso intanto buongiorno a tutti la sua urgenza comunque in questo caso qua era l'unica maniera per intervenire in queste in queste situazioni qua è in modo celere dove è molto più facile intervenire perché superiamo certi certi tipi di burocrazia che il più delle volte sono quelle che bloccano bloccano i lavori perché la volontà di tutti noi amministratori ed è anche di tecnici della provincia e di tutti gli enti sarebbe quella di agire subito tempestivamente però dopo siamo frenati da questi dalla burocrazia appunto no quindi la somma urgenza è un procedimento più snello e che ci consente di intervenire subito chiaramente per intervenire in somma urgenza bisogna che ci sia la possibilità e che ci siano le condizioni in questo caso qua vedi a Bries vedi a Revis a Lozzo c'è stata c'è stata proprio la necessità di intervenire per mettere subito in sicurezza l'abitato di rispettivamente l'abitato di Bries e l'abitato di Lozzo perché c'erano diversi problemi abbiamo visto come diceva lei prima abbiamo visto la caduta di quel masso che era un masso ciclopico quasi e parliamo di quasi 10 metri cubi 10 metri cubi circa e che ha sfiorato la casa ha battuto è caduto sulla macchina e poteva creare veramente molti danni nel caso è stata una fortuna incredibile che in quel momento in strada sul regionale non passasse nessuno perché se no c'è stata quella fortuna la prima sulla strada e la prima in primis è che non abbia beccato la casa perché sicuramente se beccava l'angolo della casa i danni sarebbero stati molto più consistenti casa abitata e con persone dentro quindi abbiamo avuto la velocità di attivare un intervento di suborgenza per mettere in sicurezza tutto quell'abitato di Bries o quasi tutto quanto meno e quindi questo qua è stata la prontezza che abbiamo avuto mi ricordo bene quel giorno là eravamo in strada operativa con il dottor Zanchetta e sono arrivate le prime fotografie di quell'immagine dell'immagine del masso caduto e quindi ci siamo subito attivati e abbiamo trovato subito il geologo che è andato in sopralluogo e subito dopo abbiamo ricercato l'impresa che potesse effettuare un'opera consistente e che ne abbiamo parlato mille volte ormai dopo magari ne parlerà magari nel dettaglio il dottor Zanchetta sì ma allora magari soffermiamoci un attimo su questa di Agordo cominciamo ad andare un po' con ordine su questi due grandi lavori che vi hanno impegnato come provincia lì ad Agordo si è trattato di capire anche come capire se c'era un rischio ancora per il futuro no se era un masso isolato se poteva ripetersi l'evento si trattava poi anche di capire come intervenire alla fine avete adottato una soluzione mai vista prima in provincia di Belluno vero dottor Zanchetta? Sì ma intanto io permettetemi vorrei sottolineare che siamo stati anche baciati dalla fortuna e da influssi astrali favorevoli devo dire in tutte le due le circostanze perché aggredire una situazione in somma urgenza può essere un vantaggio ma poi anche incappare in errori nelle scelte tecniche abbiamo avuto intanto la fortuna di trovare nel giro di dieci minuti forse anche meno la disponibilità di un tecnico bravo va bene che ha trovato la soluzione l'ha pensata prima di proporla e dopo nove giorni avevamo il cantiere impiantato incredibile cioè si dice tanto trovato il tecnico che ha fatto la scelta giusta che ha fatto la proposta progettuale giusta abbiamo trovato l'impresa giusta che ha fatto il lavoro in tempi di record sì perché diciamolo questo bisogna dirlo cioè poteva anche andarci male per dire non lo so trovare un'impresa che non aveva la disponibilità immediata o che non aveva tutti gli operai diciamo pronti ad affrontare un problema di quel tipo la potevamo trovare un tecnico che magari ci faceva una proposta progettuale diversa e forse non altrettanto efficace certo tante cose possono accadere in queste circostanze perché devi decidere sul momento sì e qui in questo caso abbiamo l'abbiamo trovato al primo colpo cioè che la cosa più bella è stata va bene che il prefetto ci ha fatto presente il problema la prefettura il problema ci siamo confrontati io e massimo e abbiamo individuato subito il geolo che era che era al telefono cioè che ha risposto subito e ha dato la disponibilità immediata è andato subito in sopralluogo ha iniziato il suo lavoro non ha guardato sabati e domeniche va bene e ci ha fornito il 13 di febbraio la soluzione chiave in mano e il cartello di cantiere già esposto fatto è successo il 2 febbraio il 13 eravamo già operativi poi immagino per quel minimo di esperienza che tutti noi abbiamo insomma che quando si prospetta un certo tipo di lavoro ci siano delle tabelle degli standard per cui si prevede che ci voglia un certo periodo di tempo per completare le opere qui la previsione era stata di 60 giorni giusto dottor zanchetta 60 giorni lavorativi 60 giorni lavorativi anche prudenziale se vogliamo e allora accostiamo l'altra cifra incredibile questa cosa che doveva durare 60 giorni in 39 giorni era già stata realizzata assolutamente consigliere una soddisfazione certo sì perché poi c'erano 25 persone fuori di casa sì tra l'altro appunto quegli sfollati più due attività commerciali quindi anche le attività commerciali la strada chiusa la regionale chiusa quindi i problemi erano tanti quindi abbiamo fatto sicuramente pressione a tutti quanti agli uffici che devo ringraziare perché sono stati fin dal primo giorno sono stati attivi gli uffici e più anche il geologo e tutte le imprese e tutti quelli che hanno lavorato ha funzionato tutto come un orologio svizzero ma allora dicevamo prima che avete realizzato una cosa mai vista prima in provincia cosa avete fatto questo tipo di opera sì è un muro una terra armata è una terra armata come posso spiegare dal punto di vista realizzativo è una serie di strati di terra ghiaia sassi di piccole dimensioni incompattati per strati di 60 centimetri e armati vuol dire che i bordi i bordi sono armati con lette retrosaldata piegata con un angolo di 60 gradi e con geotessuto allora adesso da uno strato all'altro c'è il geotessuto per spiegarsi a monte di queste case c'è una parete rocciosa più in alto che è ancora friabile instabile potrebbero staccarsi altri sassi voi a monte delle case avete trovato uno spazio dove inserirvi e creare questo muraglione lungo 120 metri 120 metri è un vallo a tergo è un vallo quindi la previsione è che se si staccheranno altri sassi dovrebbero finire dentro il vallo si fermeranno nel vallo e fermarsi contro il muro in sostanza non è che lo scavalcano no no sono state fatte sono state fatte le simulazioni e state delle simulazioni dal geologo prima di fornire chiave in mano questa soluzione ha fatto le sue simulazioni ha stabilito che l'altezza è prudenziale e tra l'altro quando ci sarà l'inverdimento si dice quando diventerà verde insomma anche l'impatto visivo non è certo un muro di cemento questo risulterà un muro di erba insomma dalla strada non si si ma anche come capacità di assorbimento sicuramente all'altezza diciamo del di qualsiasi impatto possa ragionevolmente verificarsi insomma c'era da fare una valutazione anche del costo perché un'opera paramassi la classica opera paramassi che parliamo delle barriere paramassi in ferro e reitti metalliche avrebbe creato sicuramente un costo aggiuntivo di manutenzione questo questo tipo di intervento qua è molto più semplice la manutenzione diventa molto più semplice si va dietro il vallo si portano via le pietre che cadono tant'è che ne cadono molte perché durante l'esecuzione dei lavori sugli scavi che abbiamo effettuato abbiamo trovato sono rivenuti diversi massi quindi vuol dire vuol dire che è una zona che è caratterizzata da questi tipi di eventi a me ha fatto paura trovanti buoni per fare scogliere che saranno probabilmente utilizzati per sistemare argini che ce n'è che ce n'è bisogno di alvei di torrenti e fiumi che ce ne sarà bisogno sicuramente ma situazioni come quella come quella di bries io guardando passando per la tangenziale di agordo mi viene male perché l'impressione così a naso è quella che ce ne siano anche altre in provincia di belluno ce ne sono tantissime ce ne sono tantissime di situazioni di questo tipo qua e appunto per questo che la difficoltà di chi vive in montagna voglio ribadirlo è anche quella di dire si corrono dei rischi tutti i giorni si corrono dei rischi perché è impossibile prevenire il tutto sappiamo che viviamo in un territorio che è fragile è diventato ancora più fragile dopo l'evento di fine ottobre di vaia quello l'ha complicato ulteriormente le cose questo caso però forse non c'entra o c'entra ma magari può esserci anche non si può dire non si può non si può dire né di sì né di no ma una correlazione ci può stare sicuramente sicuramente tutto ha influito dopo con gelo disgelo chiaramente questi sassi qua con questi massi con le notevoli piogge che ci sono state a fine a fine anno sicuramente si sono imbevuti d'acqua e nel momento in cui si gela la terra a quel punto là cadono anche crollano queste queste pareti e a lozzo adesso descriviamo la situazione di lozzo di cadore lozzo di cadore per chi viene da bronzo diciamo alla fine del paese grande curva sinistra che costeggia il rio rin al di là del torrente che sarà largo quanto 10 15 20 metri forse anche meno l'alveo di meno di meno quindi molto un alveo abbastanza costretto diciamo c'è una parete verticale una parete di roccia friabile io lavoro qua dal 92 ricordo che ai primi anni in cui lavoravo qui c'era il problema di quella frana che si muoveva venivano giù sassi poi il problema è stato stabilizzato è stato risolto pochi giorni fa si muovono dei massi un masso rotolando rimbalza cade addirittura scavalca il torrente va sul tetto di una casa sfonda l'abbaino fa danni insomma voglio dire quindi non si tratta di previsioni pessimistiche ti arriva giù sasso qui c'è poco da prevedere anche lì somma urgenza siete andati lì subito anche lì abbiamo avuto fortuna che il masso sia di piccole dimensioni quello che è caduto sulla casa stiamo parlando di un masso diverso quindi di un sasso più combasso e però sicuramente anche lì siamo intervenuti velocemente avevamo la possibilità perché le risorse finanziarie ce le consentono e dopo c'era la necessità comunque di intervenire subito quindi il dottor Zanchetta anche lì è stato tempestivo è arrivato ancora nella giornata nel pomeriggio appena successo l'evento e anche lì ha attivato subito una sumorgenza chiamando il geologo un altro geologo chiaramente bisogna fare le rotazioni anche con con tutti i geologi con tutti i tecnici perché comunque anche queste sono le procedure da seguire però anche qui eravamo ripresenti subito abbiamo cercato di attivare immediatamente la sumorgenza per mettere subito in sicurezza quell'abitato là e quelle case che sono lungo lungo quel versante là e mi sembra che i lavori procedano bene oggi dovevamo finire i disgaggi purtroppo oggi è arrivata la pioggia quindi ci ha fermato però nel giro anche lì di una settimana circa otto giorni siamo partiti con i lavori e nel giro di tre quattro giorni abbiamo messo in sicurezza le abitazioni perché questo è l'importante anche qui creare la sicurezza sulla gente che abita dentro in quelle case là sono tempi incredibili voglio dire cioè cade il masso una decina scarsa di giorni per decidere per capire cosa è successo decidere il da farsi si apre già il cantiere e di fatto siamo vicini alla cessazione del pericolo giusto banchetta si nel senso che vorrei soluzione alcuni aspetti prima di tutto la comunicazione oggi abbiamo mezzi di comunicazione che ti consentono di agire in tempi in tempi velocissimi 30 anni fa non sarebbe stato possibile una cosa del genere diciamo anche come stanno quindi la 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 informatizzazione la comunicazione la disponibilità di linee telefoniche così veloci riducono sensibilmente i tempi la disponibilità di personale che di sabato perché questo è successo di sabato va bene si attiva cui stefania bassani geologa che lavora con me che telefona a un altro geologo trovato subito disponibile il tecnico che riesco a mobilitare che abita calazzo che si rende subito disponibile cioè c'è anche un aspetto di personale della pubblica amministrazione che quando c'è necessità si rende subito disponibile sensibile pochi che siamo perché siamo in pochi va bene ma tutti va bene che quando c'è da far squadra si con senso di responsabilità quindi se non hai se non hai questi questi elementi questa tempestività non puoi garantirla ma immagino perché comincia a metterci il festivo comincia a metterci detto questo quando l'ho saputo io sabato mi sono recato sul posto era già arrivato nel frattempo il geologo che aveva già già quasi concluso il suo sopralluogo aveva già individuato l'intervento da fare trovata l'impresa abbiamo pensato anche qui il lavoro per qualche giorno perché aggredire il problema cercando di evitare che si creassero ulteriori danni ai fabbricati perché come è caduto un masso dal lato nel momento in cui fai delle demolizioni perché quello era l'intervento da fare puoi pensare va bene che gli stessi massi che vai a demolire va bene possano comunque attraversare l'alveo come già successo va bene magari fare danni più grossi quindi pensato pensato bene il lavoro dal punto di vista della sicurezza il grosso del lavoro è stato una volta pensato il grosso lavoro è stato realizzato in due giorni il terzo giorno che servirà potrà essere un quarto ma difficile è già previsto che nell'arco di un giorno i disgaggiatori dovrebbero completare il lavoro di fino dopodiché sarà lavoro di asportazione del materiale dall'alveo ma le case intanto sono in sicurezza sono sicuro ma tanto per dire perché abbiamo detto che in questo caso a essere piovuto giù non era un masso di enormi proporzioni ma si tratta di un sasso caduto giù da quota sopra la casa quanto qualche decina di metri che ha rimbalzato appunto è rimbalzato ha scavalcato il torrente ha colpito la casa fortunatamente non era quello di Bries fortunatamente non era quello di Bries però non è che siete andati su adesso a scalpellare via due o tre sassetti insomma di quanto materiale parliamo stiamo parlando di circa 400 metri cubi da demolire 400 metri cubi già demoliti più di tre quarti già demoliti ecco e anche qui per dire della difficoltà anche così ingegneristica di queste cose no tutto questo materiale finisce nell'alveo del riorin se non fosse tolto da lì si creerebbe un ulteriore problema perché si va a riempire la capacità dell'alveo diciamo che hai del materiale di risulta che è meglio sempre rimuovere però qui anche bravo il geologo bravi i miei collaboratori è ottima l'impresa perché l'impresa ha lavorato anche non soltanto diciamo il lavoro attivo anche anche nel pensare c'è stato un lavoro di squadra l'ha fatto a schiocco di dita che ha pagato abbiamo aspettato quei due tre giorni in più per pensare bene cosa andavamo a fare e grazie anche all'impresa tonet che con la sua esperienza ci ha dato un contributo non di poco conto insomma benissimo per tranquillità della popolazione assolutamente di Lozzo che vedrà questo problema di nuovo arginato e questo qua è l'obiettivo che abbiamo noi come provincia e come enti in genere comunque ma consigliere sta provincia che ormai è stata dal ministro del rio spogliata di funzioni di personale di tutto non è più elettiva si ritrova con fondi tagliati da tutte le parti l'abbiamo vista in difficoltà finanziarie negli anni scorsi per pagare le quote di veneto strada e così questi soldi dove li trovate spieghiamo allora questi soldi i soldi che stiamo adoperando in questo momento qua sono soldi che derivano dai canoni idrici perché noi abbiamo i canoni idrici dal adesso non mi ricordo più da che anno però sono completamente riservati alla provincia di Belluno quindi tutte le derivazioni e tutte le opere che creano canoni idrici noi andiamo a incassare tutto questo spieghiamolo ai cittadini noi abbiamo una provincia totalmente condizionata dall'utilizzo dall'utilizzo delle acque a fine idroelettrico sostanzialmente i gestori pagano i gestori pagano un canone questo canone da qualche anno torna a casa nostra non è gestito dalla regione ma è gestito dalla provincia di Belluno e ha un vincolo però ha un vincolo serve principalmente per la gestione proprio della difesa idrogeologica e dopo anche per altri tipi di altri tipi di opere si possono fare con questi soldi qua a seguito di una variazione di una legge regionale comunque è sempre la regione che ci ha concesso questi canoni qua penso che sia bello saperemo anche per il cittadino potrebbe dire ma dove li trovano? stiamo parlando di circa 15 milioni di euro all'anno di canoni idrici che andiamo a incassare di cui il 30% viene speso per le spese correnti perché per la gestione delle spese abbiamo un 30% di questi canoni qua che possiamo utilizzare diversamente il resto vengono tutti utilizzati per la difesa idrogeologica e anche da qualche anno questa parte utilizziamo anche per le scuole questo qua è stata una modifica che è stata fatta dalla regione Veneto durante l'attività commissariale della provincia di Belluno è stata modificata proprio perché la provincia era in sofferenza era in difficoltà per trovare le risorse finanziarie per chiudere i bilanci e quindi è stata fatta questa variazione e quindi da allora adoperiamo i soldi non solo per la difesa idrogeologica ma anche per le scuole e per questioni socio-economiche la roba è sicura si è creato negli anni si è creato un avanzo è bene dirlo e l'anno scorso c'è stato lo sblocco dell'avanza di amministrazione e quindi possiamo andare ad operare quell'avanza di amministrazione che era consistente perché si aggirava attorno ai 27 milioni di euro siamo riusciti ad adoperarlo l'anno scorso già a fine anno siamo riusciti a stanziare ulteriori risorse proprio per la gestione dell'emergenza vaia e dopo abbiamo dato anche una parte consistenza di cui soldi da alle unioni montane abbiamo riservato circa 4 milioni di euro alle unioni montane per gestire proprio queste problematiche con un'operazione che non è piaciuta a tutti però questa ripartizione questo riparto è stato anche avete colto l'occasione per riparametrare un po' le spettanze sì abbiamo riparametrato perché i parametri erano vecchi e meritavano anche una revisione quindi un po' più di soldi finiscono nella parte alta della provincia dove ci sono i problemi idrogeologici ne risente un po' di più il feltrino che storicamente aveva una quota più alta queste sono cose mi verrebbe da dire di ordinare amministrazione insomma logico che ci sia la protesta logico che ci sia però anche la riparametrazione in ogni caso mi sembra di poter dire che con questo trasferimento alla provincia di questi soldi dei canoni si è fatta una cosa giusta finalmente voglio dire paghiamo un prezzo per avere tutti i nostri torrenti condizionati dal prelievo idrico però almeno possiamo ricavarne dei soldi che ci gestiamo noi però volevo chiedere al dottor Zanchetta noi vediamo all'opera adesso nel dopovaia anche la regione qual è appunto il confine tra l'operatività vostra e quella della regione nella difesa del suolo voi di cosa vi dovete occupare voi provincia noi provincia di Belluno intanto trovo doveroso ringraziare la regione da dirigente regionale che mi ha dato questa opportunità di fare questa esperienza dopo anni di esperienza all'attuale unità organizzativa forestale l'assessorato all'ambiente ha ritenuto di mettermi a disposizione della provincia per provare a vedere se riuscivamo a col consigliere Bortoluzzi a costruire un percorso che credo stiamo con qualche difficoltà sicuramente ma che stiamo comunque sta mettendo i piedi e con dei risultati insomma perché poi siamo qui a parlare di risultati quindi mi sembra questo un aspetto che è giusto sottolineare dopodiché ti chiedo per cortesia di nuovo di formularvi la domanda la domanda era molto semplice tu non puoi intervenire dappertutto ci sono per legge stabiliti i compiti che spettano la provincia riguardano la difesa degli abitati attualmente noi in questo momento ci interessiamo di dissesti che interessano centri abitati o singole abitazioni nella fattispecie e stiamo lavorando sul fronte intanto della preparazione ad affrontare questo problema non abbiamo personale sufficiente per cui abbiamo dopo aver affidato degli incarichi ad alcuni professionisti di farci una fotografia di quella che era la situazione dopo post alluvione ottobre scorso ne abbiamo ricavato una situazione con oltre un centinaio di situazioni schedate a seguito di questo abbiamo affidato nel recente passato l'incarico a tre tecnici suddividendo il territorio per importi presunti perché ogni scheda ha una sua proposta di intervento e un importo e ciascuno si cura una fetta di territorio c'è il tecnico che si interessa del comelico centro cadore valboite c'è il tecnico che si interessa dello zoldano c'è il tecnico che si interessa dell'area al pago a gordino feltrino perché comunque dagli importi ne viene fuori un quadro di insieme di questo tipo si provvede entro l'anno alla progettazione definitiva esecutiva alcuni interventi saranno contrattualizzati entro l'anno e saranno pochi perché entro il 30 di settembre diventa difficile riuscire a contrattualizzare numeri importanti in una fase organizzativa sicuramente i risultati nel 2020 saranno ben diversi in termini di importi vedremo l'operato se abbiamo lavorato bene sì benissimo e quindi giusto per capire farlo capire quando abbiamo il problema di un torrente dove la briglia è stata portata via da vaia ma sotto non c'è un abitato lì interviene la regione giusto? quel genere civile sì allora laddove è una questione di natura idrogeologica legata alla rete idrografica complessiva principale e minore la competenza è regionale è regionale ecco va bene allora credo che anche qua c'è una modifica no è giusto dirlo perché a fine anno in finanziaria regionale è stata introdotta una modifica che porta più autonomia e più specificità alla provincia di Belluno perché hanno introdotto una modifica proprio sulla gestione di questi tipi di interventi quindi dal primo gennaio adesso dobbiamo andare a fare una ricognizione entro il 30 settembre del personale e di tutte le opere che necessitano di interventi sul territorio dopodiché passerà tutto in mano alla provincia quindi l'interlocutore unico dovrebbe essere dal primo gennaio 2019 e 2020 salvo proroghe dovrebbe essere la provincia chiaramente questo qua necessita di avere il trasferimento sia di risorse che di personale quindi è qua che dobbiamo lavorare bene sia con la provincia che con la regione per andare in sinergia con loro non vi fa un po' paura? sicuramente fa paura però è anche una cosa che per il cittadino e per chi deve interloquire con questi enti qua è una cosa secondo me è la miglior cosa perché vai in un unico posto in un unico ente e riesci magari a portare a casa il risultato è un ente vicino che conosce il territorio che conosce le persone sul territorio non che il genio civile sia lontano o che i servizi forestali siano lontani però c'è questa questione delle competenze l'alvio del genio civile una parte dei servizi forestali si questo a volte anche crea confusione crea confusione e questa qua è una bella cosa che secondo me anche questo è un tassello che va un tassello molto importante proprio per la specificità e per l'autonomia della provincia di Belluno ma adesso senza scendere in valutazioni politiche tanto più che siamo sulle porte delle elezioni ma tutto questo aumento di competenze non cozza in qualche modo con questa natura diversa che ha assunto la provincia se questa riforma che è rimasta a metà la del Rio è incredibile perché questa legge del Rio che di fatto ha svuotato le province le trasforma in aree vaste dice come preambolo in attesa della riforma della Costituzione quella voluta da Renzi che poi non è mai stata fatta ma allora stiamo lì a metà del guado cioè è una situazione un po' particolare qua è stato commesso uno sbaglio di fare una riforma sì, una riforma delle province che doveva essere fatta dopo della riforma costituzionale prima decidi e dopo cambi qua è stato fatto questo sbaglio qua adesso purtroppo siamo ancora in balia di questa legge che ha creato delle funzioni fondamentali e non fondamentali in questo caso qua il mio comparto che è la difesa del suolo e la protezione civile sono una funzione non fondamentale per la provincia di Belluno e quindi e per tutte le province in genere e quindi sono ancora in capo alla regione quindi c'è questa conflittualità perché hai il personale regionale e te devi gestire e programmare le opere va bene questa cosa qua va bene la programmazione che rimanga in provincia di Belluno però sarebbe bene anche riportarle elettive e riportare sia le funzioni che tu sembra logico quindi so che a livello governativo ci stanno lavorando per fare una modifica di questa legge qua chiaramente quanto meno per le province montane interamente montane quindi c'è un accordo anche a livello proprio di province montane per modificare la del Rio adesso staremo a vedere come va avanti questa riforma speriamo sia veloce perché sicuramente non possiamo andare avanti in questa maniera qua hanno svuotato troppo le province ma l'ha detto bene prima il dottor Zanchetta siamo in pochi e quindi dobbiamo cercare di di arrangiarci in qualche maniera però diventa difficile diventa difficile per tutti va bene io vi ringrazio vi auguro buon lavoro che ce n'è mi pare e incrociamo le dita perché adesso arrivano le piogge di primavera beh speriamo e noi abbiamo un territorio reso fragile purtroppo come si diceva prima da quello che è successo viene fa male al cuore vedere questi boschi abbattuti queste situazioni gravemente segnate insomma chissà quando se mai vedremo le cose messe a posto perché insomma ci vorrà parlare però insomma leggo uno sguardo però non è complesso vediamo 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 grazie a chi ci ha seguito ciao a tutti grazie buongiorno a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti